Una grandissima soddisfazione perché i ragazzi hanno dimostrato di aver fatto una grandissima partita e hanno fatto alla lettra come abbiamo lavorato in questi due giorni. Abbiamo affrontato un Chieti ben organizzato, sapevamo anche che era una buona squadra però faccio i complimenti a questi ragazzi che è la prima volta che giocano tutti assieme e hanno fatto una grandissima partita. Sono contento lo stesso della prestazione anche se come assolto abbiamo commesso degli errori però alla fine sono gli episodi che decidono, loro hanno sfruttato questo calcio piazzato quindi complimenti a loro. Risposte positive da qualcuno, è vero che noi non avevamo mai visto che il sabato gioca con la Beretti? Ma sì, hanno fatto una buona prestazione, più di qualcuno, ripeto io sono contento di quello che abbiamo fatto. Mi dispiace solo che abbiamo fatto 120 minuti e non passare il turno, questo mi dispiace. È stato un bel derby, d'accordo? Sì, è un bel derby, equilibrato, corretto, è stato molto piacevole anche per, penso per noi allenatori, guardare questa partita, vedere questa partita, vedere le proprie squadre che hanno creato tantissimo. Ripeto, per la mole di gioco che abbiamo fatto e per le occasioni penso che poi alla fine abbiamo meritato la vittoria. Sono contento della prestazione dei ragazzi, tutti i ragazzi che non hanno giocato mai, sicuramente non avevano nemmeno i 90 minuti, figura di 120 minuti sulle gambe. Abbiamo preso gol all'ultimo secondo, va bene così, la prestazione però è stata una prestazione importante, questi ragazzi hanno fatto vedere che hanno voglia di combattere, di giocarsela, alla pari anche con il lanciato, giustamente.